Bentornati su MyFootballJersey, vediamo quella che potrebbe essere la maglia del Manchester City per la prossima stagione, la 2024-25, in edizione Player, la maglia di Haaland. Grazie per la visione! Ho già visto questa maglia, la trovate qui in alto alla recensione, l'ho ripresa perché mi piace, anche se non è probabilmente la versione definitiva quella che verrà utilizzata, ma più che altro è stato un esperimento di un tifoso, si dice, mi piace molto. Il costo, lo vedete, è molto basso, ottimi tempi di spedizione, quindi se vi piace questa maglia, voglio dire, cosa fate? Compratela! Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima ditemi nei commenti cosa ne pensate e lasciate un grande like! Per oggi è tutto, alla prossima! Per oggi è tutto, alla prossima!